Ciao da Gennaro Romagnoli di Psicologia Neurolinguistica.net, ti do il benvenuto alla 34esima puntata del podcast di Psynel. Oggi parliamo della meditazione di Google e di come questa pratica di mindfulness sia fra le più gettonate fra i dipendenti del colosso americano. E non solo, sigla! Eccoci, oggi parliamo di meditazione mindfulness ed in modo particolare della meditazione di Google. Sì, avevo preparato un post molto molto complesso, anche molto bello, sulle metafore, ancora in linea con lo story editing. Se mi stai seguendo in queste settimane estive sai perfettamente a cosa mi riferisco, ma visto che siamo nell'ultima parte dell'estate, ho deciso di affrontare un argomento un po' più leggero. Di certo più leggero, ma sicuramente non meno importante. Infatti, come sai ormai da tempo, la meditazione mindfulness, se fatta con una certa frequenza, permette di raggiungere dei risultati davvero pazzeschi, anche se non è questo il suo scopo. Ti parlo di mindfulness dal 2009, anno in cui mi sono imbattuto in un libro davvero molto interessante. Te lo ricordi proprio quello che si chiama mindfulness, eccetera, ne abbiamo parlato molte volte. E così ho iniziato la mia sperimentazione. E a distanza di anni ho visto quanto è cresciuto l'interesse intorno a questa pratica. Spesso una mia collega, di molto divertente, scherzando mi dice che ho capito bene come fare i soldi e che chi si occupa di mindfulness come me lo fa più per moda che per proprio interesse. Ovviamente io sto allo scherzo e conosco molto bene la mia collega e so che anche lei scherza, ma devo assolutamente confessarti che ho continuato a praticare per un solo e semplice motivo, perché sento che mi fa bene. Sento di essere più lucido, di essere più bravo a spostare l'attenzione, di creare quella distanza fra l'azione, la reazione emotiva e l'azione, più bravo a gestire insomma le mie emozioni. E detto, fra virgolette, ho dovuto fare una cosa davvero semplice, dedicarci un piccolo spazio di tempo quotidiano. Come sai, senza darmi suggestioni strane o svolgendo esercizi arzigogolati, in stile training autogeno, autoipnosi, silvamind, eccetera, ma semplicemente sedendomi ad osservare i miei pensieri in modo mindfulness tutti i giorni. Questa è l'unica condizio sine qua non. La mindfulness, come ogni pratica di meditazione, ma anche in parte come altre pratiche di concentrazione, appunto training autogeno, eccetera, ha un piccolo grande problema. Difficilmente può essere spiegata a parole. Sì, posso farti capire e comprendere il principio intellettuale della disidentificazione, ma per innamorartene devi sperimentarla. Purtroppo serve un certo impegno prima di avere questa sensazione. A volte, molto spesso, noi siamo gli ultimi ad accorgerci che questa pratica ci sta facendo bene. In caso tu non ne abbia mai sentito parlare, non si tratta di un esercizio o di una modalità di esercitarsi, ma di un modo di portare l'attenzione che può essere riassunto con portarla nel presente, cioè nel momento presente, su ciò che senti e percepisci davvero nel qui ed ora, quindi non sulle tue idee, sulle tue fantasie, su quello che sta accadendo, ma su ciò che senti davvero adesso, in questo momento, con intenzione, quindi intenzionalmente sposti l'attenzione, e senza giudicare ciò che ti passa per la mente o che percepisci dall'esterno. Questo, come molto probabilmente già sai, ti dà delle gigantesche abilità, ma la smetto di descriverti la mindfulness, che molto probabilmente conosci se segui Psynel, ed inizio a parlarti finalmente di Google. Cosa c'entra Google con la meditazione? Fabio, un ascoltatore del podcast che ringrazio tantissimo, mi ha inviato un'email per raccontarmi che uno dei seminari più seguiti dal colosso statunitense di Mountain View, cioè Google, è proprio sulla mindfulness. In realtà è sulla mindfulness e sull'intelligenza emotiva. E si chiama Search Inside Yourself. È molto divertente il nome, perché se ci pensi i motori di ricerca in inglese si chiamano Search Engine e Search Inside Yourself vuol dire cerca dentro te stesso. Tenuto dall'ingegnere di Singapore, quindi orientale, Chade Meng Tan, molto famoso nel mondo. Uno dei primi 100 dipendenti di Google, che in realtà, se segui Psynel, già dovresti conoscere, visto che fa spesso da chairman, cioè da, fa spesso da introduttore, dei talk di Google, e ha introdotto Kabat-Zinn, Goleman e tante altre persone. Meng è un simpaticissimo ingegnere che ha iniziato ad introdurre un programma sulla mindfulness e sull'intelligenza emotiva. I suoi scopi sono davvero nobilissimi. Portare la felicità nel mondo. So che può sembrare una frase da Pollyanna, ma in realtà l'ingegnere ha molto più i piedi per terra di quanto non si possa credere. Infatti parla realmente di un circolo virtuoso che mette in campo mindfulness, compassione e azioni virtuose che si alimentano a vicenda. Insomma, un progetto alquanto ambizioso, ma che all'interno di Google sembra aver dato risultati sorprendenti, soprattutto all'interno dell'organizzazione, tra i dipendenti. Ti basta andare su Google, appunto, scrivere Chad Meng Tan, Search Inside Yourself, opinioni, e troverai le opinioni dei dipendenti di Google davvero molto molto entusiaste. Infatti Meng tiene questo seminario insieme ad altri esperti per questi dipendenti e per iscriversi ci sono liste di attesa di sei mesi. Dopo l'email di Fabio, non solo mi sono ricordato di Meng come presentatore degli speech importantissimi di Google, ma anche di avere il suo libro sul mio Kindle, ma di non averlo mai letto. Non so se capita anche a te. Sai, capita quando ti fai prendere dallo shopping online, soprattutto quando magari scarichi due o tre libri in inglese contemporaneamente. Insomma, avevo letto solo l'introduzione, ma non avevo mai proseguito. Così l'ho ripreso per raccontarti un po' meglio quali sono questi capisaldi del suo seminario davvero molto molto interessanti per chi, come me e come te, è interessato alla propria conoscenza personale invece di crescita personale. Ti piace? Conoscenza personale. Meng inizia raccontando la storia di Matthew Ricard, del quale abbiamo già parlato. E non solo abbiamo parlato, gli abbiamo dedicato un intero post. È un biologo francese che ha dedicato la sua intera vita all'ascetismo. Quindi è un monaco, vive sull'Himalaya, se non sbaglio. In pratica, questo monaco è stato fra i monaci studiati dalla task force di scienziati per osservare i benefici della meditazione su persone altamente addestrate. Se ti ricordi, ne abbiamo parlato in riferimento alle famose diecimila ore di addestramento. Ricard era uno dei monaci con maggior numero di ore di pratica di meditazione. Non solo, era anche uno dei pochi in grado di inibire lo startle effect. Ti è mai capitato che qualcuno si mettesse dietro ad una porta e ti facesse buh? È presente quando ti spaventi, ti trasali. Ecco, questo è lo startle effect. E a quanto pare Ricard è in grado di inibirlo quasi completamente mentre sta meditando. Questo riescono a farlo anche gli altri meditanti che hanno molte ore di pratica alle spalle, cioè riescono a controllare la loro reazione ad uno stimolo improvviso esterno. Meng introduce sempre sia i suoi speech sia il suo libro con Ricard perché ci racconta che dalla risonanza magnetica è venuto fuori che questo monaco è probabilmente l'uomo più felice del mondo vista la sua attività temporale sinistra preponderante. Anche di questo ne abbiamo già parlato facendo riferimento agli studi di neuroplasticità davvero molto belli di Richard Davidson. Il libro di Meng si chiama proprio Search Inside Yourself. Oltre ad essere introdotto sia da Goleman che da Kabat-Zinn i massimi esperti di intelligenza emotiva e di mindfulness inizia con una bella bellissima metafora che illustra molto bene che cosa intende Meng per intelligenza emotiva o meglio cosa significa apprenderla e lo fa attraverso una bellissima metafora quella del canto di Natale di Dickens dove il vecchio Scrooge quel vecchio burbero solitario tirchio ti ricordi riscopre lentamente i valori della compassione dell'amore e della bontà osservando come sarebbe stata la sua vita se le cose fossero andate un po' diversamente con quei famosi fantasmi del futuro del passato ti ricordi? Questa è secondo Meng un'ottima rappresentazione di cosa significa addestrarsi all'intelligenza emotiva quindi non diventare un supereroe ma semplicemente diventare più umano analogia che chiaramente ho apprezzato tantissimo non solo perché ti ho già parlato di questa metafora anche per fare degli esercizi ma soprattutto perché credo che la vera crescita personale non sia diventare dei superuomini quindi diventare dei superman ma ritornare lentamente sempre più umani insomma anche se si tratta di un libro e di un corso ottenuto da un ingegnere è completamente sulla linea di psine di questo blog visto che è tutto basato sulla ricerca scientifica ed è zeppo di esercizi davvero interessanti oggi vedremo quali sono i tre capisaldi sui quali si basa tutta la filosofia del training e attraverso le conoscenze che già dovresti possedere su psine quindi attraverso le cose che ci siamo detti negli ultimi anni potrai utilizzare questi tre capisaldi come una mappa per orientarti verso il tuo training personale di umanizzazione cioè di intelligenza emotiva e di mindfulness quindi come al solito bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di psine o meglio di meng primo allena l'attenzione come ti anticipavo tempo fa citando il bellissimo libro di goleman focus che ti consiglio di leggere non può esistere un training eccellente sulla gestione delle emozioni che non passi per un training sull'attenzione in altre parole avere una mente allenata a concentrarsi è la base per poter gestire le tue emozioni sia a livello emotivo ovviamente che a livello cognitivo questo allenamento serve per ottenere lo stato di disidentificazione quindi è proprio la mindfulness l'esercizio migliore per allenare l'attenzione infatti guarda caso ogni training di meditazione di qualsiasi derivazione inizia quasi sempre con l'allenamento della tua concentrazione allena la tua concentrazione puoi farlo o in ogni istante della tua vita mettendo da parte gli altri stimoli e concentrandoti pienamente su ciò che stai facendo qui ed ora con intenzione e senza giudicarti una metafora eccezionale che può guidare il tuo la tua pratica è quella del cagnolino riportata da Sigel se non mi sbaglio nel libro qui ed ora immagina la tua attenzione come un cagnolino molto curioso cosa fa il cagnolino va a destra va a sinistra difficilmente segue dritta dritto per la sua strada il tuo compito non è quello di strattonarlo ogni volta che lo vedi che si sta distraendo ma riportarlo gentilmente ascolta questa parola gentilmente riportarlo sul tuo focus attentivo che potrebbe essere il body scan che già conosci che potrebbe essere l'attenzione sul respiro eccetera eccetera l'importante è riportare l'attenzione su ciò che stai facendo senza giudicarti e gentilmente quindi senza strattonare questo cagnolino che altrimenti si arrabbia e ti morde quindi la cosa migliore da fare è allenare la tua attenzione se non mi credi se ti stai chiedendo che cacchio c'entra l'allenamento dell'attenzione con l'intelligenza emotiva vai sul mio blog vai su Psynel scrivi focus e goleman e vatti a leggere a rivedere i post dedicati a questo argomento secondo conosci e gestisci te stesso sembra quasi di ripetere ancora una volta quello che c'era scritto sul tempio di Delphi conosci te stesso da tempo ti racconto che la capacità di disidentificarti è anche in grado di spazzare via i tuoi automatismi e nel tempo insegnarti chi sei veramente cioè come si muovono i tuoi pensieri come si muovono le tue emozioni come nascono e come muoiono nella tua mente ma questo può avvenire solo se la tua concentrazione è sufficientemente allenata insomma se sei in grado davvero di disidentificarti ed entrare in quello stato che Meng chiama di terza posizione un po' come nella PNL in cui riesci ad osservarti come se fossi un semplice spettatore questo ripetuto esercizio di osservazione disidentificata osservazione non identificata porta all'autoconoscenza e di conseguenza alla capacità di gestire queste pensieri e queste emozioni vedi c'è una specie di indice di risposta emotiva agli stimoli sia interiori che esteriori insomma ti viene in mente un brutto pensiero o una brutta emozione e immediatamente ti fai catturare da questa oppure qualcuno ti dice una parola di troppo ti dice qualcosa che a te non piace e subito scatti la mindfulness o la meditazione a furia di essere praticata aumenta questa flessibilità nella risposta di modo che tu possa fermarti un attimo prima di rispondere e questo ti dà un'apertura a migliaia di opzioni differenti un modo differente di rispondere in questo modo davvero conosci prima te stesso e gestisci te stesso ripeto partendo prima dall'allenamento dell'attenzione che si fa con la mindfulness infine il terzo pilastro è il creare abilità mentali produttive immagina di pensare ogni volta che incontri una persona magari una persona che lavora con te un collaboratore vorrei che questa persona fosse davvero felice come cambierebbe la tua vita questa semplice domanda è alla base di uno degli aspetti più particolari della mindfulness la compassione stato che sappiamo portare alla felicità anche di questo abbiamo parlato in passato più compassione riesci a provare e più felicità avrai recita il dalai lama e meng aggiunge più compassione e più pace nel mondo nel suo programma meng colleziona un sacco di abitudini mentali positive che se coltivate possono portare alla felicità fra queste moltissime le abbiamo già citate in questi anni su Psynel si tratta di abitudini come la meditazione i tre minuti del respiro il mindset dell'ottimismo di Seligman lo scrivere i grazie eccetera eccetera iniziare a coltivare delle nuove abilità mentali che diventano delle abitudini che possono davvero farci bene e che sono state comprovate dalla ricerca scientifica bene ecco questi sono i tre pilastri del training dell'intelligenza emotiva di Google se mi segui da un po' immagino tu fossi perfettamente a conoscenza di questi passaggi ma è molto interessante rileggerli sotto un altro punto di vista quindi bisogna allenare l'attenzione e tu puoi farlo con i diversi esercizi di mindfulness che trovi sul blog e questo esercizio continuativo ti porta ad una sempre maggiore conoscenza di te stesso che ti porta a sua volta a gestire le tue emozioni e a questo punto puoi iniziare ad implementare tutta una serie di nuove abilità mentali di abitudini e abilità mentali che la scienza ha decretato aiutarti a raggiungere la felicità semplice? non tanto c'è solo una piccola condizione indovina quale impegnarti a lungo e con fiducia almeno fino a quando non inizi a notare qualche piccolo beneficio quindi ti ripeto la condizio sine qua non cioè la condizione senza la quale questo non avviene resta sempre la tua volontà di praticare bene leggere il libro di Meng non solo mi piace perché mi fa vedere la mindfulness sotto un altro punto di vista ma mi piace vedere che Meng è arrivato alle mie stesse conclusioni alle stesse conclusioni di Psynel in questi anni e chissà che magari in questi giorni rileggendolo non riesca a trovare qualche bell'esercizio da farti fare nelle prossime audio newsletter bene per oggi è tutto come sempre ti invito a farmi sapere che cosa ne pensi di questi tre pilastri e di questo di questa sperimentazione di Google lasciandomi un commento sul blog e fra qualche istante come sempre la rassegna stampa di Psynel partiamo come sempre dall'audio newsletter della scorsa settimana il podcast numero 33 davvero molto interessante perché è dedicato alla legge di attrazione se tu conosci Psynel se mi segui da un po' di tempo scusami se continuo a ripeterti questa cosa ma in tutti questi anni di pubblicazione di post e di audio ormai siamo a 2000 articoli scritti quindi non posso far finta che non ci sia il passato sai perfettamente che cosa ne penso della legge di attrazione in questo podcast lo riassumo e ti racconto anche una tecnica scientifica per utilizzare qualcosa di molto simile alla legge di attrazione ma per farti diventare più ottimista come al solito ti invito ad ascoltarlo e a farmi sapere che cosa ne pensi il secondo post della settimana è un post scientifico dedicato alla meditazione e alla longevità in poche parole all'interno del nostro DNA all'interno dei cromosomi c'è una parte finale del cromosoma che si chiama telomero questo telomero guida la duplicazione cellulare e via via che noi invecchiamo questo telomero si accorcia che cosa hanno fatto gli scienziati hanno osservato la differenza della lunghezza dei telomeri fra chi meditava e chi non meditava e guarda un po' chi medita ce l'ha più lungo scusami questa battutaccia leggiti questo post cancella dalla tua mente la mia battuta rileggiti questo post sulla longevità e la meditazione perché chi ha fatto questa sperimentazione è niente meno popodi che un premio Nobel che appunto ha studiato per anni i telomeri bene siamo giunti al termine della 34esima puntata del podcast di Psynel come sempre se mi segui su iTunes ti invito a lasciarmi una bella review a 5 stelle magari una piccola recensione scritta dove mi dici quanto ti piace il podcast di Psynel sai che questo è davvero molto molto importante per fare in modo che il mio lavoro venga conosciuto da più persone possibili ovviamente se non usi iTunes puoi usare Android se non usi Android puoi usare Spreaker puoi venire sul blog mettermi un bel mi piace e condividere con i tuoi amici queste preziose informazioni ad ottobre riapriranno i corsi di Psynel che saranno sempre sulla mindfulness e sull'intelligenza emotiva e ci rifaremo anche al training che ha sviluppato Meng in questi anni ti assicuro che è molto molto interessante in realtà chi ha già frequentato i miei corsi dell'anno passato ha già sperimentato in parte alcune di queste tecniche se sei interessato a partecipare ai miei corsi vai sui corsi di Psynel nel menu che vedi in alto del blog vai sui corsi di Psynel iscriviti alla lista di attesa e non appena ci saranno le date pronte disponibili verrai avvisato semplicemente con un'email bene anche per oggi è tutto ti auguro una splendida giornata un saluto da Gennaro Romagnoli di Psicologia Neurolinguistica punto net di Psicologia di Psicologia di Psicologia